ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua per un'altra simpatica puntata dedicata a voi che state guardando e le vostre collezioni di orologi come vedete oggi abbiamo addobbato la postazione per la festa natalizia cioè l'ho fatto più che altro per voi che credete ancora in queste ricorrenze terrene un pochino così diciamo terra terra no a me non è che mi cambia molto se sia dicembre novembre però un po di festa l'abbiamo fatto anche noi qua plurales maiestatis della postazione detto questo come partecipare lo sapete in sovraimpressione ci sono le istruzioni un bel video ne orizzontale 6 7 minuti 8 non esagerate ne ho visti da 11 12 20 chi li pubblica e poi li guardiamo assieme no come al solito ora prima di iniziare a guardare i video vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo omega acqua terra 39 mm di diametro cassa calibro 2500 con scappamento coassiale quadrante nero orologio serio sobrio come me uno dei migliori acchiappi proprio quando lo indosso lo vedo che al polso sta bene nella sua misura 39 circa 36 e da 41 secondo me 39 è migliore d'altronde ora passiamo a guardare i video dai è inutile stare a fare i discorsi dito infuocato e via ciao davide sono marcello dalla provincia di milano il secondo video che ti mando sono quello che ti ha fatto vedere qualche fotografia dei propri orologi volevo replicare bravo con tre fotografie nuove di orologi che hai già visto un paio invece riferite ad orologi che sono entrati da poco in collezione parto subito con questa fotografia scattata sulla spiaggia di sansone all'isola d'elba qui il lo splendido tronco e i sassi bianchi mi hanno ricordato il il colore degli indici e delle sfere mentre il contrasto generato da cinturino e quadrante l'ho ritenuto imperdibile questo come avevo già detto nell'altro video è uno degli orologi che porto con maggior piacere al mare e mi piace davvero tanto poi il secondo altro orologio che già visto è l'iknos di pier parlo cassoni bella foto che qui qui invece l'impressione è stata quella che l'orologio fosse appena atterrato su un pianeta alieno qui in realtà si tratta del fondale all'interno della grotta pollastrini sempre all'isola d'elba vicino alle isole gemini e la resa a parte che mi piace il blu come giustamente commentato nel precedente video qui la resa è stata è stata splendida veramente mi ha dato l'impressione fosse il quello sul sul vetro e sul quadrante fosse il riflesso del sole di un astronauta nello spazio oddio lasciare l'orologio appoggiato così su una roccia in profondità per fargli la foto mi creerebbe un minimo di ansia no non c'è un motivo cioè serio attendibile perché avvenga ma che l'orologio lo prende qualcuno scompare un colpo d'acqua le correnti marine il mostro di lock ness lasciarlo lì oppure mi sento male devo salire rimane lì per me è che in apnea ci vado 30 secondi poi torno su e dico un terzo orologio come dicevo lo hai già visto il sigal 1963 yes qui invece ci troviamo all'alpe di siusi in trentino e in questo caso sono state invece la palette cromatica di di quadrante e di cinturino a ispirarmi mi hanno mi hanno ricordato i muschi sulla roccia infatti da qui l'accostamento e è un orologio che continuo ad apprezzare nella sua nella sua semplicità veramente affascinante anche lui orologio muschio qui invece bella questa siamo su uno yema skin diver yema è una una maison che mia mia profondamente colpito non la conoscevo e ho iniziato a seguirla sapendo del superman ma in realtà questo mia mia veramente stregato anche qui sono all'isola d'elba e questa roccia con con intarsi dorati mi ha ricordato esattamente quel quella palette che troviamo sul quadrante cioè il il quadrante nero con gli indici gli indici gialli dorati guilt qui non ho potuto anche qui non scattare non scattare la peccato che non si vedono veramente ricco di fascino che purtroppo mi è caduto mannaggia a corona aperta quest'estate ed è da tre mesi in riparazione non vedo l'ora di andare indietro mi spiace l'ultimo però ti è caduto a corona aperta ci sono degli orologi che anche a corona aperta resistono sono impermeabili e cioè non ho capito se ti è caduto in acqua a corona aperta sicuramente sì oppure perché ha preso il colpo con la corona aperta non ho capito comunque tanti orologi credo la maggior parte sono impermeabili con la corona aperta anche un minimo di impermeabilità ce l'hanno addirittura gli omega vengono dati 50 metri 5 atmosfere anche con corona aperta figurati un orologio che ha fatto molto molto parlare di sé negli ultimi mesi citizen suiosa che io ho scelto con quadrante giallo bravo qui lo sfondo è perfetto qui è il il parco di villa taranto sul lago maggiore e ad ogni singolo passo c'erano fiori piante scorci che meritavano una foto questa secondo me è stata la migliore qui non solo il quadrante richiamato dai dai fiori in secondo piano ma soprattutto dalla dalla villa qui c'è c'è veramente l'essenza giocosa e sbarazzina di un orologio con un quadrante così così acceso non è più in collezione ma per i pochi mesi che l'ho tenuto mi sono mi sono divertito l'ultimo invece è un orologio che non ha ancora avuto modo di poter esprimere il massimo in foto e quindi te lo faccio vedere dal vivo che è bello questo ci piace mio young guns me lo sono regalato per i 40 anni ed è assolutamente magnifico non sono ancora riuscito a rendere giustizia a questi riflessi violacei che regala il quadrante baciato dal sole so che anche tu apprezzi i contatori incavati e sono veramente splendidi adesso grazie di tutto grazie a te un saluto alla prossima saluto ciao 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 mi piace a me quando questo nostro amico ci manda le fotografie dei suoi orologi no fate in modo artistico e sempre con cognizione di causa ambientati in un certo modo questo mi piace ora l'ultimo olio lo young guns lino con i suoi bei sottocontatori incavati io mi permetto di suggerirte la butto lì magari ti viene l'idea sono dei crateri quindi te dovresti trovare un sistema di unire il colore violetto diciamo così grigio viola del quadrante con il soggetto dei crateri è una bella una bella distesa di dove dove sono i crateri e non lo so dove sono certo non puoi farla sul vesuvio è però l'idea è quella lì magari esistono anche dei piccoli crateri artificiali creati da una macchina da qualcosa potrebbe essere anche l'asfalto però che siano dei crateri capito vabbè dai mi sono sbilanciato prossimo video ciao davide ciao da napoli e oggi faccio vedere la mia piccola collezione una collezione nata e cresciuta in pochissimo tempo è nata in modo atipico 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 però intanto fammi vedere qua cosa c'hai perché ce li mettete a posta non sapete che state facendo il video quindi ci mettete tutte le ninnolerie possibili sotto la telecamera per far vedere qualcosa di voi qua non si capisce sono un cuffetto e non lo so una roba verde lì non so potrebbe essere anche vabbè perché nata da forse nata dall'uso che dovevo fare di un apple watch e poi nulla ha detto mamma ma gli orologi della comunione dove stanno questo watch e non so secondo me è davvero molto molto carino ne ho anche altri due di questo qua li trovo estremamente simpatici e leggeri proprio forse quello che volevano esprimere fin dall'inizio ci sono riusciti benissimo quest'altro è invece di mio fratello regalati ma com'è che hai registrato ci sono molto legato perché mio padre lo regalò mio fratello mio fratello non l'ha mai messo ed è stato praticamente l'orologio di papà purtroppo il quadrante è rovinato gli indici sono tutti cancellati ma davvero vabbè ma com'è registrato il video tagli contro tagli poi l'orologio in basso speriamo che migliori perché sennò lo scarto è un sacco bello cioè ci sono legato effettivamente questo qua ha un orologio di ligno e era una mia fissa ancora avevo forse prima dell'apple watch e infatti ne comprai uno sono store cinese per chi voleva spendere davvero poco non ho avuto i soldi questo poi invece di una credo delle marche più famose di orologio in legno e l'ho preso appena iniziato a lavorare ma mi racconta è tutto sorridere e poi andiamo avanti mi facciano tantissimi vintage sono la maggior parte della mia collezione e anche perché mi piace un sacco interagire con le persone che se ne liberano mi piace un sacco magari conoscere un po di storia fare due chiacchiere con quelle persone cosa avvenuta quando il ragazzo che mi ha venduto questo plubber ho cambiato il cinturino forse un po troppo grande per il mio colso forse ce lo cambio di nuovo e da lui presi anche infatti questo seiko serie 5 no non è un serie 5 questo ma c'è qualcosa di strano su questo orologio perché sul quadrante c'è scritto 17 gioielli mentre sulla massa oscillante 21 fatti due domande cioè date anche la risposta questo è il primo orologio che ho preso diciamo alla fiera ma ce l'ho fermo un sacco questo cinturino in tessuto si è tessuto lo trovo veramente elegantissimo cioè no no è elegantissimo no però mi piace molto molto easy molto ma faccelo vedere una barbar una delle marche immagino scomparse la crisi del quadro non ci fai vedere gli orologi e proseguiamo con invece questo cornavine perché spesso nei meandri di internet vado per cercare una cosa e trovo altro tipo proprio come questo qui cornavine dovrebbe esistere ancora in realtà la meccanica dentro invece dovrebbe essere russa della racchetta mi piace un sacco un sacco in questa questo quadrante telato e lato e con queste suonature varie di arancione non lo so mi ricordo un tramonto bellissimo secondo me o almeno molto carino pesando per quello che è trovato come dicevo prima mentre cercavo invece questo copernicus racchetta ce ne sono varie versioni questa è quella che mi piaceva di più con gli indici stampati e fatto in onore di copernicus infatti l'uomo originario è sole luna rivoluzione coperniana e tutto lancette particolarissime ma siamo sicuri che originale come detto mi facciano un sacco i vintage uno che mi piace un sacco è questo qua niente di che in realtà però i colori degli indici delle oppure della non lo so mi piace un sacco guarda la forma a spiegazioni c'è il numero uno 70 come anche questo lancette oh bello questo credo sia un diver o uno skin diver mi piace un sacco questa di cosa mia forse frano che lo fermo tanto non so se addirittura fine 60 non lo so e questo cinturino di un colore credo non di quello fermo è proprio evidenziatore e mi piace un sacco andare per fiere le cose vintage credo che siano in grado di portare intenzialmente con loro una storia sono estremamente affascinato da ogni storia io per convincermi ad acquistare questo orologio in realtà all'inizio non mi interessava questo signore anziano che mi fece un sacco di simpatia mi racconta una storia perché io lo chiesi io proprio per comprare questo orologio che tanto mi voleva vendere non so perché mi doveva raccontare una storia mi disse che non sapeva cosa raccontarmi ma che avrei dovuto prenderlo perché gli orologi hanno una storia gli orologi sono vivi tutti perché al loro interno batte un cuore proprio come quello degli esseri umani e niente cioè ma ti ha perculato no ha fatto i soliti discorsi infiocchettati infiocchettati e alla fine dopo dopo la perculata anche l'inculata nel senso sarà anche un bel orologio quello che vuoi ma da quello che mi sembra di capire a me intanto se è veramente euforico cioè anche troppo euforico troppo veloce o hai accelerato il video sembri un po troppo a scatti che non porti a termine un concetto poi muovi l'orologio velocemente non si riesce a capire di di che di che minchia si tratta mi sto anche alterando adesso no cioè lo usiamo come esempio questo video qua quando fate un video perché mi è capitato bene o la camera è ferma e muovete l'orologio ma lentamente fatecelo vedere oppure l'orologio è fermo e muovete la camera perché ci sono quelli che poi muovono la camera e l'orologio insieme e diventa un pastrocchio se in questo caso qua sta muovendo l'orologio ma troppo veramente troppo cioè non si riesce a comprendere un minimo dettaglio confusionario sei confusionario subito le volte mi succede che per per fare un affare mi ritiro con rilancio mi ritiro con due al posto di uno successo con questo 6 co 5 sports medic deluxe non so se si riesce a vedere ma il cinturino se no non si riesce a vedere il sole ha un colore veramente stupendo l'ho preso perché mi piaceva un sacco e ho preso questo per farmi fare un buon prezzo su entrambi alla fine mi sono emorato più di questo che non dell'altro un altro 6 co 5 non lo so un quadrante e veramente questo blu mi piace veramente un sacco e anche questo bracciale qui ma perché li tieni qua giù un mercatino ho conosciuto un signore simpaticissimo ogni volta che ci vediamo ci facciamo due ghiacchiere da qui ho preso questo kinzel mi piace un sacco questo è un troppo picco originale e boh non lo so mi piace un sacco non lo so non lo so infatti è uno dei miei colori preferiti mi piace un sacco non lo so i tuoi commenti sempre non lo so non lo so poi ho preso anche quest'orient vedrò bello cavallo credo sia l'unico che ho preso nuovo basta via questo è un posto cadet è tutto storto questo orologio c'ha il quadrante la cassa che è troppo piccola per il bracciale la corona che è troppo grande per la cassa tutto storto è storto che si compensa e secondo me è simpaticissimo è già il suo perché poi credo questo sia il mio ultimo acquisto una fiera proprio qui a napoli è un enikar vintage quadrante nero abbastanza raro raro è placcato ci devo cambiare il cinturino perché fa schifo e forse il pezzo più importante che ho è questo mega è un seamaster cosmic e nulla non sto riuscendo a capire questo orologio quanto possa valire perché purtroppo non è scattata la scintilla e lo vorrei dare per una permuta per prendere non lo so non lo so non lo so cioè no in realtà non lo so non lo so non lo so un talc della cartier oppure un bull of acutron quello space view perché ti giri sempre di lato 14 questa era la mia piccola lezione un saluto ciao un saluto oh bello male che è finito questo qua è l'esempio di come non fare un video l'inquadratura e l'orologio era sempre in basso a sinistra con tutto lo schermo vuoto lo muoveva velocemente non te lo faceva vedere poi alla fine diceva non lo so l'ho preso ma non lo so non lo so non lo so allora secondo me gran parte di questi orologi sono orologi evitabili sono quelli che vedeva al mercatino ti fai prendere la scimmia li prendi non sai nemmeno te perché lei presi non sei convinto di quello che uno c'è il calibro 21 rubini e poi su quadrante c'è scritto 17 tutti quegli altri che mi hai fatto vedere velocemente non so nemmeno io se sono leggi o meno cioè se sono legittimi se sono genuini o meno perché a questo punto anche l'omega vive nel dubbio no la penso sulla bancarella avrebbe visto un pochino per vedere magari dentro c'è un miota la butto lì però siccome non mi sembri così ferrato nell'argomento no non so non so non so era tutto non so cioè io ci andrei rallenterei un attimino sia come parlare come gesticolare insomma proprio la tua vita frenetica rallentala e anche nell'acquisto delle degli orologi da bancarella così a caso come viene viene no è capace quella ti vuoi prendere un cartier tank e vai a prendere una sibilata di quelle che hai capito cosa voglio dire sibilata sibilata va bene io direi di passare oltre lo lasciamo sto video anche se mi ha fatto innervosire poi mi dite ma perché il mio video non è stato pubblicato era bello perché non è stato pubblicato capite cosa cosa ci troviamo di fronte no prossimo davide buongiorno sono giocato per il canale per l'idea di questi video sempre interessanti non rubo altro tempo e passo alla presentazione della mia piccola mia piccola collezione sperando di dare un utile contributo perché mostrerò un paio di orologi di case blasonate che non ricordo aver visto in precedenti video seppur piccola la mia collezione si divide in due parti orologi lasciati in eredità e con un alto valore affettivo e quattro mie scelte attentamente ponderate nel senso che si tratta proprio di obiettivi precisi realizzati nel tempo dai quali non penso mi separerò ora questa premessa che uno potrebbe anche dire è invece utile per capire anche come si muove un appassionato ha una parte di orologi che ha ereditato sono dei lasciti per cui se li hai ritrovati ma il suo scopo il suo fine è quello di continuare a tramandare anche a qualcun altro perché rappresentano il passato la vita passata è una parte di collezione che ha scelto lui e qua invece si vedrà il suo percorso il suo modo di scegliere gli orologi che poi non è detto che ognuno di noi lo abbia perché a volte come compreso andiamo a caso proprio di getto vediamo a quello lì mi piace lo voglio studio un attimo poi lo prendi si tratta fondamentalmente di orologi vintage penso che probabilmente abbiamo forse gusti diversi ma non importa va bene così è giusto così è il primo orologio che voglio presentare questo villa arvetta anni 50 quadrante ristampato carica manuale appartenuto mio padre alto ora no bellissimo era di suo padre questo orologio qua è bellissimo ma io volevo semplicemente farvi notare la differenza di riprese da qua a prima e la differenza di esposizione da qua a prima ok valore affettivo comunque mi piace molto lo indosso regolarmente questo piace anche a me stesso discorso identico per questo credo anni sessanta per allo fuocero non bloc è placato marca mont blanc ma con le due parole staccate quindi sicuramente della casa blasonata che credo si sia affacciata all'oroggeria solo di di recente non so nulla di questo orologio probabilmente una casa minore degli anni sessanta copioni la mia prima scelta ponderata invece è questo login conquest che ho comperato nel 1992 35 mm automatico in oro mi piace molto bello oro mamma mia e lo conservo ancora oggi gelosamente in modo quasi maniacale bellissimo quasi quasi altra mia scelta perché rappresenta comunque un pezzo di storia dell'oroggeria è questo bulova grande 666 acquistato di recente tiene molto bene il tempo funziona bello piace molto ripeto dato che rappresenta comunque un pezzo di storia dell'oroggeria ci tenevo ad avere un accutrono visto questo mi è piaciuto con la sua scatoletta il suo bracciale e l'ho acquistato venendo agli orologi di case che non ricordo aver visto volevo mostrare questo galle dato compax 1954 55 in oro 14 carati perché il mercato americano monta un movimento valgiù 72 c cronografo che è tenuto bene calendario con mese giorno e giorno della settimana molto bello è stato veramente un colpo di fuoco praticamente c'è va bene il giorno e il mese nelle finestrine a ore 12 e la data c'è la colpo internet c'è una una sfera con la punta rossa che questo momento è sotto quella dei minuti che va ad indicare la data su tutto il la circonferenza dell'orologio poi vabbè i tre classici contatori cronografici bello assai questo complimenti pulmine e non ho resistito in questo caso l'ultimo orologio che presento è questo breguet top carica manuale in oro 35 mm e riserva di carica con la sua scatola e credo che sia del 1990 anche questo orologio un po particolare ma che del quale mi sono veramente innamorato fin da subito la casa non serve presentarla perché la conosciamo tutti quanti e mi piace moltissimo lo indosso abbastanza spesso grazie per l'attenzione spero sia stato utile e un saluto a te e a tutti gli amici grazie ciao grazie grazie amico mio grazie per aver manato questo bellissimo video perché poi in confronto a quello di prima tutto è bello però questo l'ha fatto bene ho dato quel toppone lì al breguet perché se lo merita perché breguet è proprio possiamo dire il padre dell'orologeria no secoli di di orologeria come si deve sopraffina anche se chiaramente io non lo comprerei mai quel breguet lì no non mi piace per niente troppo classico ma veramente classico che più classico non si può con le sfere breguet cassa così in oro la moneta tonda proprio tonda con le ansette i numeri romani insomma non fa per me non ce li spenderei però è come si può non riconoscergli un mega top a quello dell'orologio di proprio veramente la ciliegina sulla torta e la dice lunga anche su questo sul tuo percorso sulle tue intenzioni si capisce che se una persona matura dalla voce che a gusti classici quindi non vedo poi così tanta differenza tra le scelte tue e quelle che ha ereditato se un vintagista diciamo così anche se poi vintagista degli anni 90 come il longino il breguet non è che siamo molto in là però sono già passati 34 anni 33 adesso non passa il tempo va bene comunque si è promosso si è promosso per tutto esposizione riprese e orologetti proprio belli tutti diciamo ciao davide ciao grazie ai tuoi meravigliosi consigli e l'evoluzione dei miei da oggi arrivate a questo punto va questo visto in una tua recensione è un mido o c'è stato di una star tribut tribune bellissimo orologio certo bellissimo il cinturino a ragione il bracciale bravo c'ho anche l'altro cinturino perché milo lo consegna con un doppio cinturino grande mente bello quando visto la tua recensione mi è piaciuto subito il modello e allo stato bravo ottimo non è sbagliato l'orologio e poi questo è l'ultimo che mattizzava come il pero come il pero un magnifico longinesse topino bello ho appena preso bravo veramente uno splendido orologio grazie alle tue recensioni la mia passione per gli orologi si è riaccesa di brutto di brutto 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 veramente uno splendido prodotto e visto la tua recensione di qualche tempo fa riguardo le mie serie limitate che dicevi appunto è tu sei per le serie limitate eccetera eccetera ho convenuto per quanto tu dichiarato dalla storia del cassetto del tuo amico mettere questo orologio in un contenitore ma te sei fuori di sua convenienza ma non si fa così ciao grandissimo grazie mille di tutto continua così sei più grande 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 ciao grazie ciao ma non si fa così dai non si può insultare un signor orologio come quello lì no mi mi dissocio mi dissocio pubblicamente dal barattolo mi dissocio pubblicamente è una scelta che hai fatto te che poi si può essere d'accordo o non si può essere d'accordo ma cosa mi ha fatto vedere un longino e un mido due orologi due daverini perfetti che sinceramente sono veramente nelle mie corde nei miei gusti anche il tribute è un pochino più bracciale maya milanese non è un cinturino un bracciale cioè maglia milanese particolare mezzo chicchi di riso no e l'idro conquest che è un classicone ormai no questa nuova versione qua con la ghiera in ceramica anche se abbiamo visto l'idro conquest gmt che ha cambiato un po aspetto sono scomparsi i numeri arabi sarebbe da tenere d'occhio se prossimamente per ora secondo me non è in programma che cambi l'aspetto del dell'idro conquest solo tempo così non è in programma sono uscite tantissime versioni fatte così però è un po da tenere sott'occhio l'evoluzione che avrà secondo me potrebbe anche essere un peccato perdere 3 6 i numeroni lì non mi ricordo più o meno dove sono eh sul quadrato vabbè prossimo video ciao davide sono ti mando questo video dalla provincia di bologna e ti volevo far vedere 5 pezzi della mia collezione quelli che mi piacciono un po di più bravo partiamo con questo pulsar p4 executive della seconda metà degli anni 70 a led il padre possiamo dire ma dura pochissimo cioè lo premi ti fa vedere un secondo l'orario e poi scompare cioè io ci andrei matto fai così un attimo è già scomparso e quanto è un pochino di più no? regoliamolo non si può regolare dell'emilton psr dei giorni d'oggi antagonista poi poi oh top d'estate nelle situazioni acquatiche fa il suo dovere cioè anche bello così poi vabbè siamo abituati a vedere quelli vintage che sono più piccolini al polso ma è un'altra roba gli orologi di diametro contenuto li preferisco in altri stili cioè li preferisco non tollero che siano grandi in altri stili cioè un dress watch da 42 tutto quadrante no per me no ma un diver da 40, 42, 44 ci sta ci sta tutto anzi nei diver non mi piace andare troppo sotto qualità percepita davvero alta alta sì e poi passiamo a tre orologi che hanno in comune il movimento il primo è questo Hamilton Lancaster degli anni 690 690 corona originale Hamilton mi piace movimento chiaramente va giù 77,50 c'ha un po' la lunetta tipo i comandirsky tipo gli orologi russi è così con quei numerini dentro vabbè niente di male poi dopo passiamo ad orologi di fascia un po' più alta che però hanno come base sempre lo stesso movimento bello top mi piace omega triple date a me piacciono 35,23,80 la referenza con base sempre 77,50 blu adesso magari la luce del sole sul suo quadrante fa dei riflessi poco carini ma comunque dal vivo è veramente veramente magnifico e poi per finire quello che mi piace di più di tutti sempre con un calibro 77,50 top che Omega ha chiamato 11,55 questo Omega Speedmaster 35,11,50 possiamo definirlo panda così si può dire veramente veramente stupendo un mio orologio preferito reverse panda non c'è niente da dire si porta davvero bene è elegante sportivo allo stesso momento niente ti saluto a te e ti rimando ad un futuro video ciao 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 allora io sono io sono un estimatore degli Omega Speedmaster con il 77,50 dentro che poi prendono diversi nomi triple date quello di prima c'è il date oppure lo chiamano automatic insomma tutti quelli con il 77,50 dentro nelle varie configurazioni fatti fine anni 90 primi anni 2000 fino a metà credo anche 2010 già arrivano mi sono sempre piaciuti mi sono 39 mm l'unica cosa che non mi va giù totalmente è che mi sembra che da 19 il passo dell'ansa che a colpo d'occhio quando ce l'aveva il mio amico Piero ho detto un po' piccolino come passo del bracciale però mi sono sempre piaciuti complimenti anche per l'Emilton lì che nonostante il quadrante bianco era ben leggibile con le sfere bordate di nero era veramente ben leggibile praticamente te hai una a parte quel vintegione il primo digitale a batteria che insomma ci sta spazi negli anni 90 anni 2000 con gli orologi con i vintegi ognuno ha il suo percorso ognuno ha il suo settore te sei settoriale settoriale per gli anni 2000 a cavallo degli anni 2000 bravo promosso sei promosso prossimo ciao Davide sono Alessio da Roma ti ho cominciato a seguire quando volevo diciamo capire come spendere i soldi e non buttare i soldi per diciamo gli orologi visto che è una passione che ho sempre avuto e ho cominciato diciamo tra virgolette seriamente da due annetti e ti faccio vedere la mia collezione vai allora cominciamo dal mio sector che ho da 4 anni al pozzo e ci faccio di tutto bravo un sectorino a batteria si potrebbe scegliere altro però 4 anni minchia passiamo vabbè al citizen h950 satellitare e un broglione accumulatore accumulatore questo lo vorrei vendere per comprare un orologio automatico dato che ho visto che il prezzo comunque tiene usato comunque si vende ancora un bel po' di soldini eh qualche scemo lo trovo volevo scambiarlo certo certo via poi ho poi un omega bello bellino senza sfera secondi referenza 111 0107 se non sbaglio carica manuale l'ha l'ha e poi ho questo lo ha risultato da mio nonno che aveva regalato a sua moglie mi piace mi piace credo sia degli anni 50 non ne so molto di questo orologio ebbene io piccolino mamma mia infine il mio ultimo acquisto è stato un fan del film interstellar ho preso un Hamilton da 42 mm se riesco a tirarlo fuori vengo io con il codice mors sulla lancetta 42 fammi sapere che ne pensi che ne penso grazie mille sei simpatissimo grazie a te intanto per tirare fuori il cuscino da una scatola non è che devi usare degli attrezzi particolari dei calzascarpe per tirarlo fuori basta prendere il cuscino ai lati lo stringi e vieni via subito senza stare a tribolare come ha fatto te che mi sei sembrato un pochino impedito diciamo così bello il morph da 42 mm bello sinceramente io preferirei quello da 38 sicuramente anche se non c'ha il codice mors sulla lancetta dei secondi dei minuti dove porta una sega meglio il 38 tra l'altro ora che abbiamo scoperto che anche sul 38 il morph 38 si può mettere il bracciale del khaki field a grandi linee siamo quasi sicuri lo abbiamo visti quindi puoi avere uno che ha il khaki field da 38 il morph da 38 con lo stesso bracciale può fare il doppio gioco il doppio gioco divertirsi a cambiare e non cambiare poi gli altri orologi cos'erano un me lo ricordo mio più ah vabbè il piaget il piaget della nonna l'omega l'omega devil dress watch e citizen embryo insomma non è che si è messo tanto bene diciamo la verità a parte l'ultimo acquisto poi il resto un po' stantio cioè quello che ha il polso quattro anni con un cos'era un braille un sector per me sono tutti uguali un sector quattro anni al quarzo al polso ci avrei le bolle io ci avrei va bene dai questo qua era l'ultimo tutti i video corti oggi ragazzi non so cosa dirvi mi spiace vi lascio prima non so quanto è durato il video ma sono stati sei video ma tutti corti quindi io mi sembra di aver detto tutto vi rimando la prossima puntata sperando che sia più cicciosa ogni tanto capitano queste puntate così di transizione vi ringrazio e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao